Con Gerry Boratto, sindaco del comune di San Martino di Lupari, il padrone di casa in occasione di questa cerimonia di premiazione dei quattro calciatori altarego luparense campioni d'Europa. Allora, sindaco, un'altra soddisfazione per il comune di San Martino di Lupari. Abbiamo un altarego luparense che da anni porta in giro e porta in alto l'onore del comune di San Martino di Lupari. Con 13 successi nazionali arriva anche questo successo internazionale, nazionale italiana campioni d'Europa, ancora il marchio altarego luparense San Martino di Lupari. Sì, salve, direi che oggi è una grande giornata di sport dove soprattutto festeggiamo i quattro moschettieri che sono riusciti a espugnare insieme agli altri amici in Olanda il campo non semplice degli europei a portare a casa questa sofferta ma meritata vittoria. Ma soprattutto festeggiamo, come dicevi tu, il brand del calcio a 5 San Martino Futsal che è da ormai 17 anni che calca la scena nazionale e internazionale e riesce ogni anno a stupirci e ogni anno a portare a casa nuovi traguardi. Oggi siamo qua a festeggiare i nostri quattro ragazzi che hanno contribuito in maniera fondamentale a portare a casa il titolo europeo, però non dobbiamo dimenticarci che la Futsal è impegnata su molti fronti. I 13 titoli vinti in 17 anni credo sia la migliore testimonianza della professionalità, dell'attività e anche del grande gruppo e della grande voglia di vincere che sta dietro a una grande squadra. Una grande partecipazione qui nella sala consigliare, segno della ospitalità consueta del Comune di San Martino di Lupari. Abbiamo assistito l'anno scorso anche a Luparense Day, sempre con il patrocinio del Comune, un Comune che rimarrà sempre vicino a questa grande realtà, all'Alta Rego. Il Comune è vicino all'Alta Rego e a tutte le attività sportive qua a San Martino. Abbiamo delle realtà che sono veramente importanti e magnifiche. San Martino si conferma città di sport, è una città vocata per lo sport a tutti i livelli. Non dobbiamo dimenticarci, l'anno scorso abbiamo avuto una tappa del Giro d'Italia di Andy Bike, abbiamo le Lupe Basket che sono in A1 e tutto è coronato da grandissime vittorie che è anche il Futsal Luparense. Ci porta ormai e ci abito ad avere annualmente qua a San Martino. Quindi, come ho detto prima il Presidente Zaratini, la sala consigliare è sempre a disposizione per festeggiare queste vittorie. Quindi benvengano e ne vengono ancora molte e soprattutto con lo spirito di condivisione, di collaborazione ed anche dei risultati stupendi che riusciamo a portare qua a San Martino. Non dobbiamo dimenticarci che è una grande soddisfazione per i territori e per la nostra comunità che quando va fuori dalla regione Veneto, va fuori dall'Italia, va fuori dall'Europa, come è capitato anche a me, viene identificata la comunità di San Martino soprattutto con il Futsal Luparense. Quindi, grande brand e grande soddisfazione per l'amministrazione e per tutte le persone che vogliono bene e sono vicine allo sport.